Non mi trovo più. Ovunque io mi cerchi non mi trovo più. Da un po' di tempo non riesco neanche a guardarmi allo specchio. Io mi cerco e non ci sono. È come se la mia riproduzione fosse vietata. Non esco molto ultimamente. Non voglio contatti, devo ritrovare me stesso. Mi domando se esiste una via d'uscita. La mia mente è come quella leggendaria ricca città indiana. Fa miracoli. Nessuna traccia di me. Neanche nel mio lavoro. A fondo. Galleggio in un vuoto perpetuo e a fondo. Non ho appiglio. Devo risalire. Devo imparare a volare il prima possibile. Da tanto tempo non venivo qui. Questo posto mi ha sempre fatto stare bene. Gli alberi mi circondavano e chiudevano fuori tutto il resto. Voglio osservare di nuovo questo mondo come allora. Per descriverlo al meglio. Ciao. Grazie a tutti. Eccole qui, davanti a me, le ali che mi aiuteranno a risalire, la ragione per cominciare a volare. E sento che questo è il principio del piacere. Ogni giorno che torno lei è lì. Quasi invidio Dio. Vorrei aver plasmato io una bellezza simile. Poi saluto l'invidia e scivolano nelle mie fantasie. E mi sembra tutto così chiaro. Lei fa rivivere anche il mio lavoro ed io non desidero altro che guardarla. Ma com'è lei? Mi chiedo spesso se nel pieno di tanta bellezza si nasconde il vuoto. Mi domando come si comporta in mezzo agli altri. Mi piace la mia amica? La mascarina l'ho fatta io con le mie mani. Davvero? Come si chiama la tua amica? Si chiama... Melania. Questa se la scopriamo in due. Spero non sia così. Solo una grande guerra esplode dentro di me. Nulla lo può impedire. La voglia di parlarle e conoscerla. La paura che possa essere solo una perdita di tempo. La fantasia diventa un diversivo e forma una nuova vita interna. Ale, ti preparo due uova che devo uscire con Carla. Andiamo a fare shopping oggi pomeriggio. A che ora torni? Torno stanotte, amore. Facciamo l'happy hour da Giorgio e poi andiamo a ballare con gli amici di Paolo. A te non piace ballare. Ti ho lasciato le uova in cucina. Porto fuori il cane! Ma noi non abbiamo un cane! Tutto è giustificazione che cerco la mia vigliaccheria. Adesso ho capito. Ho guardato dentro di lei che mi ha mostrato la sua vera anima. È così diversa da come credevo. Falsi specchi, immagini distorte. I miei occhi finora sono chiusi. Ora vedo lei. Ora sono pronto. Ciao. Ciao. Si sta bene oggi, eh? Ah sì, per essere autunno. Io sono Alessandro. Bratella, piacere. Ti vedo spesso qui. Ci vengo tutti i giorni, è rilassante. Anche tu. Li ho visto là, dietro la tenda. La tenda? Sì, mi dà un senso di tranquillità. Tu sei sempre insieme alla tua amica. Quale amica? La mela. Non c'è nessuna mela. Ma... Non ho capito a nulla. Cosa dice il tuo pittore? Quale pittore? Quello dei quadri che hai visto finora. Riguardo a cosa, scusa? Riguardo alla pipa, per esempio. Alla pipa? Sì. Beh, dice che non è una pipa, è solo una rappresentazione di essa, quindi non si può riempire o fumare. E del film? Quale film? Questo film. Ma... Te lo dico io allora. Io e te, come la pipa, siamo solo una rappresentazione di Alessandro e Donatello. Magari nemmeno esistiamo, come la pipa. Chi ce lo dice che sia mai esistita? Hai detto tu stesso, no? È solo colore su tela. Ora, la gente che ci sta guardando non può toccarci o interagire o parlare con noi. È come per la pittura. Solo che il cinema, oltre che la vista, richiede anche l'udito, nella maggior parte dei casi. In sostanza, devi credermi se ti dico che... questa non è una mela. ... ... A scusa, 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 è per tribù l'air. A scusa, 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti.